Potranno tirare un sospiro di sollievo gli spettatori triestini amanti del musico. Lieri, ospite di Trieste in diretta, il direttore del teatro stabile Franco Però, dopo aver illustrato parte del progetto culturale che caratterizzerà la programmazione dei prossimi anni, ha voluto sgomberare una volta per tutte i dubbi sull'argomento. Si saranno, adesso non ditemi quali, saranno ridimensionati, saranno sempre ad alto livello, anzi, una delle prime cose che ho chiesto in teatro, facciamo uno, non dico quale, dice sì, lo stanno cercando da anni, lo cerchiamo da anni, ma non gira, rimane fermo a Londra, dico vabbè, allora andiamo su altri. Quindi ci saranno, non è questo, assolutamente. Come ci saranno le altre forme, la danza o quelle, non fammi anticipare, ma già delle cose molto belle mi hanno trovato, quelle forme di spettacolo, tra danza e il circo, siamo rimasti incantati a vederlo. E' ovvio, come del resto è stato più volte sottolineato, che i riscontri positivi degli spettacoli in scena in questa prima parte della stagione, segnatamente la famiglia Adams, Jesus Christ Superstar e Aggiungi un posto a tavola, abbiano, come si dice, fatto la differenza. Ma è altrettanto condivisibile l'analisi di Però, in merito allo stato della produzione italiana per quel che riguarda il settore. L'altra settimana c'è stato Aggiungi un posto a tavola, la tradizione italiana è quella, non è triestina come tradizione, però è quella italiana e infatti il pubblico è stato e come. Quindi, tenendo presente queste cose, in qualche modo il musical è sempre portato da fuori. I teatri stabili, poi i teatri sono teatri di produzione, quindi la cosa che invece non continua a ospitare non fa parte della produzione, devi dare questo servizio e lo dai, ed è un arricchimento, come no? Non dico. Però ancora, vedi, c'è un gruppo teatrale, prima l'Arancia, poi cominciare da loro, che da decenni fanno il musical. Adesso dirò una cosa che può sembrare un po' cattiva. Perché non si arriva in questa forma a certi livelli di altri stati? Parlo gli Stati Uniti, l'Inghilterra. In qualche modo vuol dire che ti appartiene fin lì. Va detto anche che i titoli forti per la prossima stagione ci sono, ma che per il momento restano doverosamente top secret.